Ho avuto una grande stima per il sindaco, la stima in stand by riprenderà esattamente come era il giorno che deciderà di fare le scuse ufficiali, non a me se non vuole, ma al Francavilla Calcio e ai supporters. Da quel giorno avrò lo stesso affetto che ho avuto fino adesso. Abbiamo trovato uno stadio veramente in condizioni disastrose, le confesso che se l'avessi visto prima forse ci avrei ripensato un po' di più a prendere Francavilla, però poi siamo abituati, quindi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo rifatto gli spogliatoi, abbiamo rifatto le aree esterne, ritinteggiato tutto lo stadio e aperto questo, bonificandolo questo settore. Abbiamo chiesto di avere noi la gestione perché è più veloce, ogni lavoro bisogna fare, passare per il comune che ha i suoi tempi e posso anche comprenderli per questo, sono impegnati in faccende senz'altro prioritarie rispetto al calcio. Dico che è una città come Francavilla che vive di immagine, vive di turismo, lo stadio dovrebbe essere uno dei salotti qui insieme con le piazze principali. Il sindaco Luciani aveva detto di avervi inviato una PEC con la proposta di affidamento del Valle Anzucca. Questo è stato dopo la partita con la Vastese, quindi tempi recentissimi. Dopo il problema? Certamente, trovo indegno aver trovato uno stadio in quelle condizioni e trovo brutta, non uso parole più pesanti, che si permanga nella disattenzione, nel mettere a posto adesso che c'è una società solida con delle ambizioni che fa la D per la prima volta dopo 21 anni. Però se questo non si può fare, le soluzioni sono molte. L'altro giorno alla presentazione dello stadio di Pescara ho proposto a Daniele Sebastiani se parte di investire con lui, potrebbe essere una bella novità, è più vicino a Francavilla del Valle Anzucca, quindi fare insieme uno stadio di proprietà e per la prima volta uno stadio di proprietà condiviso, quindi potrebbe giocare sia il Pescara che Francavilla utilizzandolo meglio. Ci sono altre soluzioni. Lei parla della Pescara Arena che è stata presentata l'altro giorno, potrebbe avere anche una parte del Francavilla dentro. Perché no? Perché no? È una delle possibilità, potrebbe investire in questo stadio e potrebbe essere innovativo, dividere i costi ma avere anche dei ritorni maggiori. Noi abbiamo anche l'ambizione di passare tra i professionisti. Se il Comune fa quello che deve fare, quindi azionare velocemente per avere l'agibilità definitiva, se mancano dei lavori li facciamo, se mancano 5 lampioni, abbiamo fatto così tante cose che impieghiamo 2 ore e mezza per installare 5 lampioni lì fuori. Se lo fa, bene, altrimenti nessuna controversia, andiamo a giocare da un'altra parte. Promesso ai tifosi di fargli entrare ancora un euro perché per ripagarli parzialmente di questo lasciarli fuori dalla settimana scorsa, quindi in qualunque posto saremo, potranno entrare un euro. Un euro perché è impossibile fargli entrare gratis per legge, vuol dire che entrano gratis e per noi è una specie di rimborso morale, questo indipendentemente se sarà Francavilla o Pescara o Ortona o Lanciano o quello che sarà.